Marketing e stoa sono due parole chiave oggi, stamattina, ma cosa significa, tu che ti occupi di marketing da tanto tempo, da specialista, che significa insegnare ai ragazzi di un master a fare marketing? Allora, è fondamentale per un master in gestione di impresa affrontare i temi del marketing, perché il marketing non è soltanto una disciplina, ma è anche un approccio culturale e oggi, lo era anche importante in passato, ma oggi ancora di più in un modello in cui i confini tra interno e esterno delle imprese sono sempre più labili, la capacità di interpretare i comportamenti, i fabbisogni, le esigenze e di dare risposta a delle esigenze non in una logica di visione razionale e programmata, in cui io azienda decido i passi, ma devo invece la capacità di interpretare i modelli, le evoluzioni dei comportamenti del cliente, perché è il cliente che incide sia nella produzione di contenuti, sia anche nella costruzione delle modalità di utilizzo dei prodotti e servizi. Oggi si parla tanto di cooperazione tra il cliente e le aziende, proprio perché con le tecnologie digitali c'è un coinvolgimento molto forte del cliente che entra nell'azienda, metaforicamente, e definisce i percorsi di fruizione del proprio prodotto o servizio in base a una richiesta di customer experience. Allora le aziende devono avere questa sensibilità, cioè di rimettere a sistema quello che è il patrimonio culturale del marketing, per reinterpretare in una logica di passiva aggressività, cioè di avere un approccio non più dall'azienda verso il mercato, ma dal mercato all'azienda, leggendo grazie all'utilizzo di tutte le informazioni disponibili, oggi si parla tanto di big data, di possibilità di avere tanti dati a disposizione. Ecco, se noi come operatori di marketing leggiamo i dati e entriamo in relazione col cliente nel momento in cui il cliente ce lo chiede, oppure nel momento più giusto secondo il customer journey del cliente, noi riusciamo a dare quel valore aggiunto che permette di rispondere alle esigenze del cliente senza avere le scocciature di chi ti telefona a casa e ti può offre un contratto telefonico a un operatore di televisione a pagamento quando sei a cena. E' entrare in relazione nei momenti che sono più giusti e desiderati in base al cliente.